Benvenuti ad un nuovo video, oggi andiamo a vedere come Sarasens costruisce la meta di Benerl contro Cluster di qualche settimana fa Una meta molto interessante perché è studiata a tre fasi, si vede molto bene il diamante, il rombo nella costruzione di questa meta E lavorano molto bene i giocatori senza palla e l'asse 10-15 Farrell e gli oddeli Quindi tutto parte da questa mischia in zona centrale del campo, spostata sul lato sinistro però a ridosso della linea centrale Attacca la linea dei tre quarti, entra lo Soski a contatto, 12, 13 e 14 quindi sono all'interno della rack C'è l'ala sul lato opposto e i due driver 10-15 La struttura è un 3-3-2 e questo è quello che si vede, c'è questa forma diamante del primo blocco che lavora dietro In questo caso lo vedremo tra poco E dietro le due strutture in mezzo al campo degli avanti ci sono Deli e Farrell che lavorano Uno nascosto dietro al primo giocatore e l'altro invece in asse Si evita quindi il primo pod e si va a giocare sul secondo pod e si crea per il terzo possesso L'asse 10-15 tra Farrell e Deli Ma guardate anche Earl Ben Earl che era il giocatore che aveva dato quel passaggio pull Passaggio dietro sulla seconda linea d'attacco Per la seconda fase c'è il buco e adesso andiamo a vedere come prende quel buco Egli o Deli e quanto sono importanti i giocatori senza palla come Jamie George Che con la sua corsa assorbe Billy Twelve Trees e Singleton Ma anche Farrell molto bravo al limite a dare questo passaggio con tanta pressione Prende anche il placcaggio e quindi si trova in terra di nessuno In questo caso Rizummit che ha tre giocatori a cui deve pensare Parte già in velocità e gli oddeli che può giocare la palla all'interno Tre fasi, due diamanti, bellissima meta Uno stile che rivedremo molto spesso nelle giocate di Sarcens Per questi altri video potete iscrivervi al canale